Provengono spesso da situazioni di difficoltà in cui la motivazione per seguire questi studi deriva dalle vicende personali molto difficili e cosa che li ha motivati a non abbandonare ma a continuare con ancora più forza a tutelare i diritti della propria comunità o della propria minoranza e quindi c'è un elemento di motivazione fortissimo dietro a coloro che poi seguono questi corsi. Sono studenti che quindi quando vengono presso le nostre università vogliono avere anche strumenti pratici per essere immediatamente operativi, magari vengono già dal punto del mondo della società civile ma vogliono vedere come allargare ancora di più l'impatto delle loro azioni, raggiungere un auditorio maggiore, collegarsi a livello internazionale con altre realtà simili. Devo dire che ho avuto una gran fortuna nel senso che io ho studiato prima all'università di Genova a giurisprudenza e essendo interessata alle materie internazionali avevo fatto una tesi appunto che già era incentrata sul tema dei diritti umani e sulla tutela delle minoranze. Poi ho scoperto con il tempo principalmente perché ero attiva in Amnesty International con diversi gruppi di lavoro che esisteva proprio un centro qui a Padova che si specializzava su questi temi cosa che per allora per i tempi era assolutamente innovativo. Infatti io ho studiato qui tra il 95 e il 98, mi sono diplomata come specialista al centro di diritti umani appunto nel 1998 e ho avuto appunto la fortuna di essere la persona giusta nel momento giusto anche per il centro investito appunto su di me in quel momento perché iniziava il percorso del master europeo in diritti umani che poi si è sviluppato come abbiamo detto nel Global Campus e quindi ho iniziato da subito ad essere coinvolta in questo progetto prima come semplicemente tutor e poi assumendo principalmente un ruolo invece più nel coordinamento amministrativo. è un pensiero che è spesso nei miei ricordi e nell'ispirazione appunto che lui ha dato a tutti noi sia nel nostro progetto di lavoro ma anche al di fuori personalmente è sempre stata una persona che ha saputo vedere oltre con questo atteggiamento protettivo di padre ma anche visionario per cui ci ha sempre spinti a fare di più e a credere in quello che avremmo potuto realizzare in termini di cambiamento nell'occuparci del tema dei diritti umani. Il Global Campus of Human Rights è un network internazionale di università e sono appunto un centinaio circa le università che ne fanno parte attualmente distribuite su sette hub internazionali quindi in Europa il centro che ha sede a Venezia e che realizza il Master Europeo in Diritti Umani e in altri sei continenti quindi nell'area del mondo arabo diciamo con l'università di Beirut a coordinare in America Latina con l'università di Buenos Aires, in Asia e Pacifico con l'università di Bangkok, a Pretoria, l'università di Pretoria per l'Africa subsahariana e nel Caucaso l'università di Yerevan. Questo gruppo di università quindi realizza principalmente l'attività principale e la realizzazione di programmi post laurea di Master in Diritti Umani e Democratizzazione che hanno una struttura simile e coinvolgono varie università della regione quindi gli studenti normalmente vanno per un semestre presso le università coordinatrici dove vengono impartiti i loro corsi e poi hanno un secondo semestre in cui sono loro a raggiungere altre università del consorzio nella regione per preparare la tesi di ricerca e sviluppare altre attività. Quindi c'è un elemento di mobilità e c'è una forte coesione e cooperazione tra università che sono appunto coordinatori regionali e università invece sul territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.